sofi da per la prima volta la pastina a celine le piacerà guardate il video secondo me sì eccoci signorina ci scusi ritardo oggi il ristorante offre per la prima volta la pastina proviamo a vedere com'è a a a a a a com'è buono abbiamo piselli zucchine pastina e coniglio com'è molto buono molto buono celine non sembra molto convinta infatti il viso non è dei migliori però sorride a sofi quando glielo dà e lei lo mangia ciao ciao Grazie.